Io lo leggo tutti i giorni e quando non esce, domenica, mi manca qualcosa. Non so, anche in Argentina, quando c'era l'edizione spagnola settimanale, la leggeva tutta, perché non so che è un legame con la Santa Sede, con il Magistero della Chiesa, con la vita della Chiesa, la storia della Chiesa. Io dalla prima all'ultima, seguo l'ordine, a meno che abbia qualche interesse speciale, lo cerco prima. Ma dal solito, la prima all'ultima pagina, no? E quando finisce, dice, peccato, è finito.